Buongiorno, è venerdì mattina e il weekend open house sta per cominciare A partire da domani pomeriggio, quindi da sabato pomeriggio alle ore 14 le due case di Together saranno visitabili a tutti e quindi non che abitualmente non lo siano però per noi è una bella occasione questa dopo aver lavorato insieme a voi così tanto sul rendere queste case belle e godibili da tutti adesso è davvero un piacere e che ci innervosisce anche un pochino poterle finalmente mostrare a un pubblico molto vasto che sarà quello di open house che verrà a trovarci a partire da domani pomeriggio quindi stiamo ultimando le ultime cose la mansion che è la sede dove si terrà anche l'inspiration day evento organizzato in occasione di queste visite è previsto per domenica alle ore 16 quindi la mansion è quasi pronta abbiamo sistemato le ultime cose, abbiamo dato una pulita e buttato un po' di quelle cose che erano anni erano qui da anni e non eravamo ancora riusciti a sbarazzarcene qui ci sono un po' di opere nuove, queste ce le ha portate Alice che ringraziamo tantissimo, sono bellissime e qui invece c'è la collezione di Mr. Minimal che già alcuni di voi conosceranno perché ha già esposto qui in precedenza e adesso è presente in versione ampliata rispetto a quella dell'altra volta qua c'è il super murale di Boban che domina il corridoio come sempre mentre in quest'altro corridoio ancora c'è spazio per molte opere quindi siete ancora in tempo, se avete delle cose che vi piacerebbe esporre nelle due case together in occasione di questo flusso di gente che verrà a trovarci e passerà tra queste mura per questo weekend siete ancora in tempo per farlo quindi oggi, venerdì o anche domattina potete portarci le vostre cose e aiutarci a sistemarle un po' io adesso sono pronto per andare al garden dove mi stanno aspettando e finiremo di ultimare un po' di cose anche lì se non avete nulla da fare e volete venire a darci una mano siete i benvenuti saremo lì più o meno tutto il giorno a dare una sistemata e a rendere le case più accoglienti possibili per tutti quelli che non possono farcela da domani potete venire a trovarci a partire dalle 14 le porte delle case saranno completamente aperte mentre domenica a partire dalle 16 ci sarà l'inspiration day quindi una giornata fantastica in cui persone fantastiche ci racconteranno delle storie fantastiche e dove anche voi se avete voglia potete raccontare le vostre storie quindi vi metto tutti i dettagli nella descrizione vi metto anche il link al programma così sapete gli orari, sapete chi parteciperà e sapete quando potete venire e quando potete anche intervenire per tutti quelli che non potranno essere a Roma abbiamo previsto anche una diretta streaming che sarà moderata, se così si può dire, da Violetta Rocks sul mio canale quindi useremo questo canale, è comodo, ce l'abbiamo già e quindi useremo questo quindi per tutti quelli che non potranno essere a Roma durante l'inspiration day potranno guardarci dal vivo su internet detto questo è tutto, volevo soltanto ricordarvi questa cosa siamo molto emozionati per questo evento ci vediamo presto a 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